sto arrivando e eccomi qua allora sono posizionato bene davanti ok posso andare no perché la spia ce l'ho là però voglio guardarvi in viso quindi tento di guardare meno la spia poi tra l'altro la spia dopo un po si spegne allora è un annuncio sul canale che state seguendo ci saranno un po di cambiamenti saranno un po di cambiamenti spero apprezzati da chi mi segue soprattutto da chi mi segue da molto i cambiamenti sono tesi a questo e cioè ho parlato con tanti miei vecchi follower mi sono fatto dare dei feedback e quindi ho pensato che insomma alcune cose si possono migliorare miglioriamo resta sempre il fatto che il mio è un canale da amatoriale io sono un professionista naturalmente però i video non sono professionali perché e ci tengo a precisare perché bisognerebbe avere uno studio di ripresa di un certo tipo ci vorrebbe un cameraman ci vorrebbe qualcuno che facesse attività di post produzione eccetera eccetera in pratica farei un video all'anno invece io sono un executive chef che per inciso ormai da un po di anni fa più il resto da manager quindi io non è che ogni volta che faccio un video posso a parte l'impiego di budget e così via perché tutte queste cose andrebbero pagate come faccio a fare un video a settimana se poi ogni volta devo mettere in mezzo altre persone così via quindi i miei video restano video amatoriali li registro io come questo con le attrezzature che ho quasi senza fare niente così come lo pubblico va bene ma allora i cambiamenti quali saranno beh intanto la frequenza aumenterò la frequenza perché perché molti mi hanno detto che gli piacerebbe vedere un paio di video a settimana non uno ogni due lo posso fare magari non sempre lo potrò fare però sto tentando di di prendermi questo impegno quindi due video a settimana sempre del tipo amatoriale quindi senza bisogno di troppa attività successiva alla registrazione vera e propria dovrei riuscire a farcela magari qualche settimana anche tre quindi questo è il primo cambiamento importante poi aumento i video tematici qui resterà sempre chiaramente il video in cui io presento un mio corso un mio evento un libro una mia attività intesa come promozionale barra commerciale perché perché il mio canale non ci mancherebbe che io non mentessi su video in cui parlo delle cose che organizzo però ho deciso di aumentare invece un po la percentuale di quelli tematici quelli in cui parliamo di e qui mi sono insegnato ancora una volta un appunto sarà un mix cucina ristorazione un po cucina un po ristorazione un po cucina un po ristorazione io quando parlo di ristorazione parlo sempre di ristorazione a 360 gradi quindi ristorazione per me non è il ristorante anche bar e ristorazione il bistro piuttosto che la paninoteca piuttosto che il cocktail bar piuttosto che il pub la trattoria e così tutte attività in cui un signore entra e o mangia qualcosa o beve qualcosa non importa se fermandosi due ore o magari solo col caffè al volo al banco e via poi ci sarà un mix anche tra i video orizzontali e i video verticali perché perché ormai tante persone utilizzano un cellulare per guardare i video e per lo più vanno in verticale però d'altro canto ancora un sacco di persone guardano i video su un computer su un tablet e vanno in orizzontale soprattutto ho pensato perché non posso pensare di pubblicare un video e pubblicarlo ogni volta in due versioni e diventa veramente un casino quindi la mia idea è questa i video lunghi tematici quelli in cui si suppone che una persona stia di dieci minuti un quarto d'ora a guardarsi sto video saranno fondamentalmente orizzontali perché perché parto dal presupposto che una persona che comodamente col computer se lo sta guardando ma non è sempre vero magari sarà qualcuno col cellulare va bene lo girerà perché in qualche modo una scelta la devo fare mentre invece i video più brevi quelli più immediati quelli che ancora una volta magari parlano di cucina ristorazione però registro e così come senza nient'altro pubblico quindi video che per lo più saranno corti gli short li pubblicherò invece in verticale domande risposte continuo con la mia politica di voler rispondere ai commenti alle domande che mi farete nei commenti stessi nel salotto frascerro se uno mi fa una domanda secca del tipo era del 20 si è del 20 però qualunque cosa implichi una risposta appena più articolata io quella risposta la darò nel salotto vi ricordo che salotto è un'attività pro bono quindi per entrare nel salotto fare domande e avere risposte non si paga a meno che non vogliate considerare pagamento quel quell'euro del gettone che serve più che altro per far sì che nel salotto ci siano soltanto le persone interessate è un casino andare nel salotto perdonate ma se una persona vuole risposte beh io ci metto il mio impegno a registrare dei video uno si prenderà l'impegno di fare lo sforzo di due clic e tre secondi per entrare nel salotto altro 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 vedremo perché perché ci sarà anche qualche altra novità però quella è a sorpresa nel senso che guardate video e poi esperimente il vostro parere se ne avete voglia direi che con ciò ho detto tutto vorrei concludere solo con un grazie grazie ancora grazie perché i vostri feedback mi sono stati decisamente utili saluti baci abbracci ci vediamo al prossimo video ciao